Partita la gara dei 400 ostacoli, non inquadrata, con situazione Piotr Kotlarski, Polonia Corsia 1, ma seguiamo Lorano Tocz che è in Corsia 6, Lorano Tocz è il favorito perché in questa gara manca Aliekat Wierdochlieb che è il campione europeo in carica. E' sorpresissima la regia che dà il lancio del disco, è davanti Lorano Tocz, è davanti, mentre si continua a seguire il lancio del disco femminile, Lorano Tocz nettamente in testa, due corsie all'interno c'è Ruslan Mashchenko che sta rimontando qualcosa, Lorano Tocz verso i primi punti di vittoria, ce la fa, riesce a tenere ed è un tempo 49-30, qui conta la vittoria, il tempo cronometrico è difficile da fare, anche per le condizioni del vento.